buongiorno io sono albi e benvenuti a questa nuova partita di left for dead 2 la campagna dead air e gli ospiti sono invece ambu entusiastissimo come al solito giocare a questo meraviglioso gioco poi c'è dig no 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 non c'è dig quindi ciao a tutti io sono dig e giochiamo a life for dead e dopodiché c'è la mia amata isa ciao tutti che sono entusiasti che sono felici che sono euforici l'entusiasmo e l'ora ma che ora è l'una e mezzo di notte appunto tu dovresti dormire perché è tardi noi dovremmo dormire perché è presto ma io ho mangiato la pizza con dentro i funghetti strani ok quindi ok allora vediamo se mi ricordo pure i tasti tra l'altro visto che ti sembra di pattinare perché cosa giochi ultimamente scusa una schermata nera abbiamo un problema houston abbiamo un problema il personaggio nero vede la schermata nera vabbè cazzo che sicuramente è pure più bravo di te quindi aspetta ti rinvito ambu no no ma non è un problema di invitarmi vede la schermata nera che cazzo che cazzo noi non ti vediamo dentro eh vediamo il bot quindi eh vediamo Lewis si che sicuramente è pure più bravo di te quindi probabilmente abbastanza soltanto che sicuramente non è simpatico come ambu quindi si no 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 c'è una stronza attenzione signori qua come cazzo ha fatto di guardare lì? che il parkourer? che cazzo? no la volevo fare anch'è aspetta che qua eh no purtroppo non posso ancora spostarmi trasversalmente però imparerò allora oh prendete niente che non si possa rimediare ah vabbè Lewis non prendo un cazzo dai andiamo avanti oh ammazza tutto tra anche gli zombie wow no 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 non spingetemi charger no no che cazzo che cazzo che cazzo è successo non hai idea di com'è stato bellissimo eh eh immagina ma che c'è un hunter dov'è? ah ok l'avete ucciso? si 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 ambu ambu è morto ambu no non è il gioco che non vuole farmi giocare ma tu fai crashare senza secondo me perché sei troppo forte il gioco si vergogna non essere i zombie hanno paura i zombie hanno paura non so non sentire il programma di portare le modifiche al computer poterà don installer.exe valve eh? ok eh eh l'update no non hai aggiornato il gioco che cacca no no ma qua? ah ok qua vedi a pure di non giocare ah no forse era perché non è che ha formattato eh? ma no se stava entrando il gioco ce l'ha il gioco ce l'ha ma i plugin non c'entrano niente con le mappe normali no? ma infatti non c'entra niente che bello che non si vede nulla non so basta che accendi la torcia ma per favore torna che io se non mi sta simpatico ma senza torcia c'è molta più privacy oh my god allora qua dove cazzo ci va qua? di qua di qua di qua non si doveva buttare nel guo? ma bello eccolo sei appena entrato in partita e hai già perso più vita di noi tutti messi insieme fino ad ora complimenti cazzo è tutta sta gente no è quella che è vero oh devastante hai fatto saltare l'allarme? ti odio devastante eri bug oh ma c'è la safe house di qua per piacere no oh mi vogliono uccidere per piacere per piacere oh io sono ok oddio ma che gangster è lui che andava in giro quando l'ho più visto? eh? l'aracroft che arrivi e allerti lorda l'aracroft soltanto che cambia il colore della pelle e quello che c'è tra le mutande però più o meno quella è vabbè anche qualcosa avanti direi eh? cosa? vabbè non contano perchè le mie sono buggate e beh hai comunque vabbè secondo me qualcosa di buono è infatti lo stesso allertare lorda eh per farci farmare di più a noi ok qui è un giocatore per la patria io giuro la città arrascia lo devi install no non ti crash non ti crash dai ammetti che sei te che lo fai crashare perchè non ti piace non ci vuoi giocare non sei nostro amico e e è vero non sei nostro amico aspetta leggiamo cosa c'è scritto ma perchè sei crashato di nuovo? ah ti stai leggendo i graffiti? vediamo cosa c'è this is sparta guarda dove? mi sembra strano ci sia scritto this is sparta ma che cazzo dici? eh il film non era neanche uscito trolled brooo no ma io già già subito ho pensato no nel 2009 non c'era ancora ah ma forse vuoi curati però non hai pensato ciao io mi sparo un me qua lasciate proprio i medikit si 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 sono lasciati diretti no 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 che cazzo io mi devo curare oh che cazzo è che cazzo è che cazzo è che cazzo è? c'è un charger dietro c'è un charger dietro ti sta tirando un colpo alla volta ma perchè io sparo e non vedo ah forse il mio 350 di ping potrebbe influire sui miei colpi forse tutto il vostro ping potrebbe influire sui vostri colpi visto che sto allostando e si vede che c'è mio papà di là che scarica pornazia oh 206 sono quello con meno di ping ah ecco perchè la mia stasci laggando ma aspetta un altro eh ma sembrava strano questo 600 di ping di isa no il mio è un cosa di strano che ho sparato a uno zombie e rimasto vivo oh ma ragazzi l'ho superato e quando era dietro di me è morto e non capivo come fa riflessione diciamo io c'ho 209 di ping pur dall'america ed è sì infatti magari esatto di che hai messo meglio di Ambo quindi è un problema tu Ambo Oddio mi sono fatta vomitare per il suo! No ma io lo so, io sto upando dei video Occhio ti difenderò io con la mia lag gigante Ah io sto liberando, guardate Oh qua c'è una K La segniamo sopra, è sceso Vai vai la lag sta passando Ma se ti urlo a tuo padre decidi smetterla Ma no, guarda che... Mi sa che non è il problema, guarda che non è di altro Oh c'è un tank 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 Dove dove oh? Ah ma è qua dentro, mica lo vedevo Vedo Albu che sparava Ah no era Albi che sparava Che cosa si dice? Io arrivo da dietro con i più Guarda qua, guarda qua, pompa, pompa Infatti io vedevo un braccio che usciva dal muro E dicevo boh sarà un charger No ma io ho visto un braccio che usciva dal muro Un braccio che usciva dal muro No che brutte E le bellissime bambole Che cozzo è questo Ma quanto erano brutte quelle bambole? Cioè se c'è qualcuno qua all'ascolto che... Che utilizzava le brazze Oddio mio! Guarda ti diranno tutti che le tagliavano i cappelli Le tagliavano i cappelli No 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 le brazze erano... Feticismo? Erano quelli... Quelle con le labbra nox Labbra... Labbra giganti Labbra giganti, tasta gigante E corpo piccolino E corpo piccolino esatto Che sembravano tipo... Era come i personaggi di... Soffocato ragazzi Oh ma dove dobbiamo andare? Oh sai che mentre sei nel fumo dello smoker Se provi ad utilizzare la chat vocale del gioco Vengono fuori solo tossiti Oh c'è lanciato la chat Oh c'è lanciato la chat Eh? Eh no è realistico No che cazzo fai? Ah si si tranquillo eh Cioè non chiedere Eccoli che arrivano Si sembrava tipo... Com'è la linea di... Di un film molto... Molto adattato ai adulti Eccoli che arrivano Oh... Spara... Oh... No... C'è uno smoker dirai eh occhio Ma io avevo piazzato Io protetto Ambu Dai cazzo dai che ce la fai dai che ce la fai Grande Luis Che non sono Luis in realtà Lui siamo Grande Luis Grande Luiso No 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 vedi che mi avevo ridotto fuoco Mi odio Sempre così Mi fate più danno me Mi so io che da fuoco i barili Ti ha colmo anche da fuoco i barili Oh guarda questo charger super mega impallato lì Vedo il suo braccio da qua Sì infatti Povero Ma questo è bullismo ragazzi Ma che cozzo è? Cioè... Soldato perché è malformato Cioè... Cioè... Oh... Chi non rush hai perduto Pam... 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 Capote Oh dig... Te come te la cavi a cantare? Perché di solito in questa serie le... Le nostre doti canore Vengono... Vengono sviluppate nella loro massima forma di estensione Oh... Che cazzo è sta roba? Io me la cavo Sono incastrato in un bug Eh no... Ok... No... Io me la cavo benissimo a cantare Te la cavi benissimo? Che giorno di musica preferisci? Uuuu... West Coast Ambu 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 È tutto per lo show È tutto per il divertimento E poi Ambu untersaggineone P***e Po miem Ok Dai che tra un po' arriviamo nel mob spawner Ci mettiamo di una torcia e non ne vengono più fuori Mia Che cazzo stessi vicendo? T.'o perdo perennò E' via minecraft vai Oh oh Witch Oh che cazzo C C'E' una Witch Dov'è? No, non ho il pompa Dov'è la witch? Io non ho il pompa Mi sa che è di qua Occhio Che è una canzone? Non c'è Qua c'è il pompa, però non trovo la witch Ah ok, giù di qua Penso A chi stavi sparando? Dov'è la witch? Non c'è la witch Ha detto una bugia, io sentivo piangere però No, l'ho sentita anch'io, magari era Non ti preoccupare Adesso sentirai Ambu che fanno No, 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 no Ma che cazzo è? Più o meno, dai, ci sei andato vicino In diretto tutto bene Chi era? Oddio mio! Oh, ma le sfighe Come si chiama quella roba che fanno? No, vabbè, magari non ha un nome Tipo, per esempio su COD Quando c'è lo sniper che salta e... I trickshot? Da un muretto? I derpshot? No, 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 no Che salta da una copertura dove lui non ci vede un cazzo E uccide la gente Oh, che cazzo Va, che poi era molto intuitivo Sì Questo schema è chiaramente... Di odio Non so se avete visto, non so se avete visto tutti gli schemi che ci sono sui muri Oh, una bomba piccola Oh, c'ho un giù che mi arriva addosso Scappate, ragazzi Ma che cazzo succede? Sparato una bomba Ma non so se c'è niente Guarda tutti gli schemi sui muri Sono interessanti Non so chi Eh, interessantissimo Ahia Tig Qua è vuoto Questa addirittura c'è del sangue sopra Sì, sì, tranquillo Leggi le scritte sui muri mentre ti colpiscono Ma io sono... Smylander Mi devono tagliare la testa per... Per uccidermi Gnam gnam Eh, ma sai, sai, a me è sempre venuta in mente una cosa, no? Allora, metti, le divinità sono immortali, giusto? Sì Ok Ma, metti quindi Zeus Però tipo, ogni tanto c'è tipo anche nei film quando c'erano gli dei così tipo... Oh, ma dove cazzo siete? Ma infatti... Oh, ci stiamo parlando di cose... Sì, stiamo parlando di cose importanti Ad esempio, tipo, se gli tagli un braccio Gli otari magari dopo se lo riattacca, però si taglia Cioè, lo puoi tagliare E quindi una divinità immortale Non la puoi fare tipo a pezzettini piccolini Che cazzo fa? Poi lo vuoi tanti piccoli Zeus E poi la mangi No, no, no Oh, che cazzo? Oh, allora Magari se è una divinità immortale anche... Che forno, io ho fatto un headshot che faceva luce Oh, Ambu, guarda un po' Looters will be shot Quindi se la smetti di rubare No, no, non eri tu Chi era? No, era Filippo che mi rubava i loot su Aion Oh, Cristo, giocano ancora a Dynast Oh, Ambu, tranquillo, eh Non siamo qua da aspettarti Ho trovato una macchina nel caffè Utile, utile Che cosa hai trovato qua? Vediamo, vediamo Dai, dai, fammi vedere Fammi vedere, Ambu Fammi vedere Io mi ricordo che Kratos, Singodo for 3 L'ho sbattuta a terra Kratos, Singodo for 3 Zeus lo picchiava Ma cosa facci? A sangue Oh, dai, andiamo Oh, oh Siete indecisi, eh Scusa Oh, 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 abbiamo finito il livello con la porta aperta Non si credo Adesso ci spawniamo con tutti gli infetti dentro Che bello Non possiamo Mega party Lo schiuma party con gli infetti Secondo me invece respawni a 50 di vita E in piedi Vediamo Che si aprono le sommesse, signori Oh, 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 oh Grande Grande No, a 30 di vita Per favoredogs Non c'è la pausa Al terzo episodio No, è un livello da Ambu, deve andare in bagno No, è un livello da 5 E devi andare in bagno Eh, lo vedo Guarda, guarda Vedi che è lì tipo lì Kino Quando c'è la vescica piena Che stai male Però la pausa sarà la fine Di questo livello Mi dispiace Devi ancora resistere Ambu, hai una bottiglia a fianco Ambu? è una bottiglia fianco io no io ho la cosa del vomito se vuoi metterci dentro qualcosa ancora vuoi pisciare quattro ambu ce la facciamo tutta pugni ci facciamo un livello tutto andando in giro con con in mano tipo il vomito la moto così e prendiamo a cazzo crediamoci si fa così crediamoci pugni cazzo grande vai boom vieni qua stronza i veri uomini utilizzano le mani e non è un doppio senso ma che ce la stiamo facendo adesso quando ci sono arrivati tutti dietro ma facciamo che muore è arrivato perché non sei da rifugio occhio che c'è i pugni nelle mani gira l'angolo e arrivano vai vai che cazzo vieni qua vieni qua ti piace il mio pugno come con me come with me ah ah yeah tarana 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 come with me no eh era stra bella quella canzone ma perché io sto a 66 di ping e loro stanno di nuovo alti perché hanno un problema mio è un laggone io sono americano io sono un bambino speciale che cazzo ma avete attivato l'orda no no tranquilla no 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 era nel livello ad ammi piacciono le cose quadrate e rosse da sparare mi piacciono quadrate e rosse e tonde e zombie ma perché siete così sciocchini ma perché io sono un parkourer io ho lo spirito del parkourer io mi sono dato fuoco però ho dato fuoco a un sacco di mostri occhio 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 go 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 io ne cuo vieni qua io sono in mezzo al fuoco io sono in mezzo al fuoco ed in mezzo anche al l avvo mito di di qualcuno ad ascoltare amore o qualche con 410 di ping들을 uccido non cresceremo no non ci mancherebbe purai con il braço uno 6 gigant 22 doppio canate grande il giacca era infiammata mamma mia oh voglio 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 la canzone che stai cantando prima era quella la canzone che stai cantando prima era mica mia nonna un'astronauta o qualcosa del genere che cazzo di canzone è mia nonna un'astronauta non c'è una canzone simile qualcuno della famiglia di qualcun altro era un austronauta però mi ricordo se era la nonna il padre sì 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 no 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 e vi ricchi vabbè nei commenti ce lo faranno sapere secondo me dovremmo metterci a cantare ma qualcosa di bello tipo una canzone di tiziano perro dei film e non modo davanti a un muro oh ma qua cosa è successo 2012 2012 2012 vieni prendiamoci per mano e ci diamo il zoom che cazzo 2012 qua oh giochi perchè ti sei buttato gioco facciamo qualcosa no però è figo perdono ho saputo quel che ho fatto io per occhi d'ho scusa regalo no rosa di cosa posa oh qua c'è un boomer digiti stai manare va che mi faccio sboccare va che mi faccio sboccare oddio mi ha avuto in mente una battuta che non vi potete nemmeno immaginare che fa luce tipo no che la spegna però vieni e adesso stai aspettando il momento meno opportuno cos'è che oddio 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 charger 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 qua c'è un qua c'è un boomer un boomerang no 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 c'è ta c'è ta una boomerang ma poi ora mi spiega che cazzo c'entra il boomerang c'è una witch sembra e ma dai non si spiega le battute il fatto che manchi l'aria nello spazio quando si fa i capitani occhio alla witch qua via via occhio occhio va che muori sei morto sei morto a posto oh ma la witch è scappata non avevi visto una witch scappare grazie per le pillole è anche una bitch che cazzo no hai provato hai provato ad ammazzarlo con questo pompone qua senza neanche andarli vicino no ma sinceramente Rezzi è scappata è scappata è scappata che cazzo ha visto Ambu no l'ho ammazzato no si è sentita mortificata perché l'ha proprio ucciso l'ho visto dare via secondo me a un certo punto mentre me non ce l'aspettiamo ci torna da dietro e ci stupra si è infatti un po' di paura per quello ok povero Ambu povero un cazzo davvero se l'ha cercata oh isa qua ci sono pillole sparate dove? oddio a parte che io sto per morire sicuro no un'impressione ecco sto per morire è morto te oprimi no un po' di paura adesso non mi può fare mai ora c'è un charger 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 acchio god è sempre che non ci sono io eh non ci sei tu che sei quello che li attrae particolarmente ma dove dobbiamo andare qua? di qua di qua di qua dove? ah non l'avevo visto è sempre qui ok oh grazie Ambu sei stato un ottimo scudo di carne oh qua c'è schiantato un aereo super mici give blood save lives hehehe allora vedo il sangue degli infetti allora non ti senti così dura che sento allaggante che hai fatto dig è stato bellissimo eh lo so è la mia specialità occhio smoker qua c'è sempre uno oh muori 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 oh dio tank 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 oh muoio 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 vabbè oh oh cazzo occhio al tank vai vai che è vomitata non capisci più in cazzo quella oh minchia che schivata ragazzi che schivata vieni qua ah vieni qua vieni qua ah si oh si io vorrei essere rinata prima che eh si vai dig ti copriamo intanto io c'ho il defibrillatore il defibrillatore ah c'è come il defibrillatore perchè? no ma l'ho pigliato adesso l'ho pigliato adesso l'ho spaccareato l'ambo l'ho pigliato adesso oh no ma meglio che ci sia Ambu perchè sennò questa macchina qua so già che i fini faceva con Ambu Allora sei scusato di Ma che cazzo? Ma sei stronzo Ma come non sei stato Sì, sei stato scritto Dai, vero, stai facendo sulla macchina Eh, se la tocchi, c'è l'allarme, la macchina Comunque, stanno arrivando Dai, 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 che lasciamo Dicendo che sono casse toccando le macchine Le faccio esplodere? Eh, no, camminandoci sopra però sì Ma non è che sopra, è solo un po' di qua Allora adesso, io cammino sulle macchine tutti i giorni Oh, a me non me ne frega niente di voi, potete pure morire Oh, cazzo, c'è una witch No, ma loro due muoiono, questa Ma andate a fare questo Non sparare la witch, che la ammazzo io Oh, ma è quella di prima? No, non so se è quella di prima Stai lì un attimo, la ammazzo io Ok, è morta Un fatto È colpo un po' Un fatto Oh, ma ci sono i mirini Spi giochi Se io spalco qua, mi posso lanciare giù? No! Oh, ma lo ammazzate Ma lo ammazziamo perché non ho voglia di scendere giù Oh, anche Oddio Oh, tutti su Ambu per piacere Che senso, pensavo che funziona come tutto il gioco che rimane appeso Adesso non c'è Ma se mi buto di qua e vado là, lo aiuto? Oh, fa prima salire luce No, 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 dig, dig per piacere Figuro? Ma io ho se le della lag da ogni parte Oh, vai, se li spariamo tutti muore in un attimo Muore in due caricatori Oh, uso l'impostazione di lol Allora Vai, vai, vai Cazzo, oh, quante cazzo di vita c'è? Un juggernaut Nidalee dell'alba Albu, muori Ha voglia, ha voglia Bella, bella, bella sta cosa che... Sta morendo? Sì, sì, sì Oh, vai che l'ho ucciso Ambo sei contenti di essere morti? Verrai recuperato presto, vai Stra carino Arrivo Oh, get inside Ok, questa era la fine della prima parte di questa campagna Per la seconda dovrete attendere qualche giorno perché siamo sadici, come al solito Lascio salutare tutti gli altri e lasciate un bel mi piace e ciao 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 Ciao